In un messaggio audio che circola in internet, Abu Akr al-Baghdadi, leader dello Stato Islamico, che non parlava da circa sette mesi, ha minacciato soprattutto Israele. A ottobre si era parlato di un possibile ferimento di al-Baghdadi in un bombardamento dell'aviazione irachena contro il convoglio in cui viaggiava. La notizia però non è mai stata confermata. Secondo gli analisti si tratta di una chiamata alle armi per tutti i simpatizzanti e combattenti in una fase chiaramente difficile per lo Stato Islamico, costretto sulla difensiva. L'audio è comunque recente perché affronta il tema dell'alleanza promossa dall'Arabia Saudita a metà dicembre. Comunque il messaggio del leader degli uomini in nero è volutamente drammatico. State certi, ha detto, che lo Stato Islamico è in buona salute e più le nazioni si accaniranno contro di lui più sarà certa la sua vittoria in Allah e la correttezza del suo cammino. E nel giorno in cui al-Baghdadi torna a far sentire la sua voce, un nuovo allarme attentati per le capitali europee arriva dall'Austria. Un nuovo attacco potrebbe esserci durante le feste.